Sono Eleonora Carisi e da quattro anni ho un blog che si chiama Juju Villerois. All'interno si può trovare tutto ciò che gira un po' intorno a me, intorno alle mie passioni, dal mio negozio, dai designer emergenti, fotografia, moda, lifestyle e soprattutto i miei viaggi. Ho scelto questo look perché nonostante l'autunno mi piace giocare coi colori, mi piacciono queste geometrie, queste stampe un po' optical sul rosso e sul rosa che è uno dei miei colori preferiti e poi il taglio molto femminile.